Mahmood, un ragazzo gli regala quasi un chilo di induia durante il concerto, la reazione del cantante. Curioso scambio di battute tra il cantante e un fan che al suo concerto in Calabria si è presentato con il tipico insaccato spalmabile conservato in una borsa frigo. Curioso fuori programma durante il concerto di Mahmood a roccella ionica, in Calabria. Sospeso per qualche minuto da un divertente scambio tra il cantante e un fan che ha pensato bene di porgergli un prelibato dono. Tutto è nato dalla lettura di un cartello rivolto all'artista, nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po' di induia. Grande lo stupore di Mahmood che non ha potuto fare a meno di commentare tra le urla e le risate del pubblico, sono stato due giorni in Sicilia, ora qua. Torno a Milano che sarò un bue, ha affermato. Sto solo mangiando. Non c'è un limite al cibo. Il botta e risposta è proseguito ancora quando Mahmood ha scoperto che il tipico insaccato spalmabile calabrese era stato portato al concerto in una borsa frigo in una quantità notevole. Circa 700 grammi. Ma nella borsa frigo te la sei messa? Come si fa? Dammela alla fine, altrimenti si scalda. Ma come? Mi dai la borsa frigo? Me la regali? Sono 700 grammi di induia, ha commentato ancora tra le risate dei presenti. Episodi simili non sono una novità ai concerti di Mahmood che si è sempre dimostrato molto amichevole con il suo pubblico. Anche in Sicilia, infatti, il cantante ha avuto come dono un cabaret di cannoli siciliani e in un'altra occasione ha giocato a carta, forbice, sasso con un fan tra il pubblico per decidere il brano da cantare. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.